350 euro per la copertura assicurativa di 4 mesi, una procedura semplice per attivare il contratto, un agente a disposizione sempre. In teoria è una condizione favorevole, in realtà una truffa online che è stata scoperta dalla Polizia Municipale di Montemurlo grazie all'utilizzo del Targa System, il sistema che in tempo reale controlla che le vetture si è assicurate e revisionata. Abbiamo invitato uno di questi cittadini a presentare i documenti per dimostrare l'avvenuto pagamento o comunque l'avvenuta copertura e lui ci ha presentato in effetti un documento che però era falso. Da qui è iniziata un'indagine dalla quale è emerso che ci sono tantissimi siti online che promettono delle polizze anche temporanee che addirittura giornaliere e però sono di fatto dei siti fasuli, dei siti che non sono ricompresi nell'elenco dell'Ivas. Il fenomeno delle false assicurazioni online è in aumento esponenziale, soprattutto negli ultimi due anni. Si offrono a buon mercato coperture assicurative anche di un giorno. I cittadini tendono chiaramente a cercare offerte anche a basso costo delle assicurazioni, quindi si fanno, tra virgolette, accalappiare anche da queste offerte online. Come si diceva c'è anche una facilità nell'accedere poi alla polizza. Stiamo cercando appunto di divulgare il più possibile informazioni che possano difendere il cittadino. La prova del 9 è abbastanza semplice da fare. Ci si può collegare al portale dell'automobilista, sito ufficiale del Ministero, digitare il proprio numero di targa e attendere il verdetto. La nostra polizia municipale in questo caso non è solo quella che fa le multe, fa anche un'azione di prevenzione, di controllo e soprattutto per smascherare questi casi emblemati di truffa nei confronti delle persone ignare.